Ok Non possiamo per un momento farci niente Segreti individuati Grotta Kit di sopravvivenza Voglio usare l'arme di fuoco Voglio esplosire per distruggere le barriere Avercela l'arma di fuoco Ma funziona lo stesso Vabbè quindi per il momento Vieni premuto Qui è più urgente Fare gli upgrade Non l'ho scoperto Del mongolo Non riesco a necciurli Non possiamo cadere Non possiamo cadere Non c'è 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 Anche lì c'è un altro 3 più 1 Usare penne per potenziare armi E fabbricare frecce Mi sa che bisogna potenziare La raccolta delle cose Perché veramente Mi sa che se no ci voglia Troppo tempo per fare qualsiasi cosa Monolito Ma se no proseguiamo Anche perché mi sa che bisogna tornarsi qua Perché comunque non In quella grotta là non possiamo entrarci Monolito e non lo possiamo leggere Quindi sicuramente è un discorso Di backtracking La trinità Sono qui Comando Mi ricevete Oh merda Ah Che diavolo era quello Ok Ma lì veramente movimento Impedisce determinizzazioni Non sappiamo Dobbiamo stare qua Ci vorrebbe che restasse Più a lungo Le cose evidenziate Abbiamo perso Abbiamo perso i contatti Con la squadra Eh Ok non bisogna tirare la neve Allora 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 Svenire in questo momento non mi sembra il massimo Una sacra profeta delle sue persone, delle sue gente Devo fasciare questa ferita Erbe curative In realtà possiamo risalire, sembra Una tanica Una struttura abbandonata dai tempi della guerra Un'altra struttura abbandonata dai tempi della guerra Ora va meglio Però ho un modo per sconfiggere l'osso Per fabbricare frecce velenate Un'altra struttura abbandonata dai tempi della guerra materiali, come al solito, questi li conosciamo già molto bene. Ok, qua un altro, questa pianta curativa. Ecco, comunque è sicuramente questo, trovo il tessuto. Niente, qua non c'è altro. Quindi, vabbè, i funghi bastavano ancora i primi, quindi il resto invece è questo tessuto, qui ci vediamo. Per ora questa impostazione di sopravvivenza. Ok, ho bisogno di tornare all'accampamento. No, 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 no. No, 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 no. Dai, il cervo, allora dove è andato? Però come se ne è data la gamba Ok dove vai dove vai Ok Menù inventario Munizione Freccia delle nate Ok Attrezzatura Non possiamo fare assolutamente niente Abbiamo l'abilità però E ha sopravvivenza Adesso I nemici storditi Uccisi o storditi Bomba incendiaria Pide leggero Si consente di ricoprare le frecce quando depredi i nemici Uccisi con l'arco E non danni dal fuoco nemico Danni e esplosioni Puoi stordire Allora Quella la sembra interessante però forse Prima prendiamo questo Poi potenzialmente disponibile Impugnatura foderata Migliora la presa sull'arco Aumento la velocità di tensione Direi proprio di sì Ok Andiamo a trovare Si riposa prima Poverina Cuccia No Ascoltami tu Questa scoperta è troppo importante Meno in fischio della mia reputazione Non mi starai minacciando Dopo tutto quello che ho fatto Pronto? Perché hanno fatto la sequenza 30 prime Secondo poi Ce l'ha scritto che praticamente le scoperte di lui sono state debancate Cioè smentite come cose false Sofia Non fermarti Borsa Che ne abbiamo Corri vai vai E questi chi sono? Eliminatela Sono proprio qui vicino Mi facciamo una sorpresa spero Tutte le squadre alla porta Com'è la situazione? Passo C'è un altro accampamento qui Braci ancora calde Non possono essere lontani Passo Il segnale è ancora debole Perciò non allontanatevi Dobbiamo trovarmi prima che organizzino un altro raid Occultamento C'è studio per non farti vedere Un'uccisione furtiva Alle spalle No qui sta venendo Ah ok Super affronti soldati a trinità per raggiungere la grotta Si difunga il guidente Eh il legno ormai non ci serve perché Quindi questa non c'è spuglia ma Ah Dunque Questo sta venendo di qua ma C'è quello lì che guardo di qua A tutte le squadre State in guardia I nativi hanno imbottito il bosco di trappole I nativi La sfida è completata L'esplorazione ti permette di guadagnare i crediti da usare per acquistare i pacchetti di carte nei negozi Allora c'è qua il ceffoli Attenzione Il segnale è ancora debole Aspettatevi interferenze su tutte le comunicazioni Ok Precce con un bel Quindi RB prima Attaccati alla radio e vedi di contattare la base L'ultima cosa che sappiamo è che erano soffattati Noi di niente Mi è venuto un dubbio Qui c'ha Belas Qua c'è qualcosa magari No eh Non rientreremo nei tempi pregasti Non piacerà a Costantino Ma è sempre meglio che farci ammazzare nel video Quei hanno scudo Non c'è E' una buona facciana In fine indiana sono tutti questi Eppure sembrava un duo o tre Non abbiamo ancora localizzato la squadra di ricognizione Resta il nostro obiettivo primario Occhi aperti Ormai siamo quasi pronti Sono arrivato in Siberia con quelli del primo volo per ripulire la vecchia base sovietica Ora arriva nuova gente in continuazione Constantin ha fatto un discorso ai nuovi venuti E sono rimasto a sentire Lo ascolterei per ore Le sue parole mi piacevano anche prima Quando non ero credente Ma ora è diverso Ora ho capito che non sono solo parole Sono la verità Avevo perso la strada Ma la trinità ci unisce in un cammino comune Ci ha dato uno scopo C'è un mondo nuovo che ci aspetta E anche chi non ha fide Potrà fare la sua parte Ok E' il caso voi lo eliminate prima Spero che ci fosse qualcosa lì No No qua c'è qualcosa Ok Ok torniamo Andiamo Sembra che andiamo da là Andiamo dal nostro secchiato Quindi